Up Fin da bambino Carl sognava di fare un viaggio avventuroso in Sud America. Ora è anziano e vive da solo, ma non ha perso la speranza di partire. Purtroppo la casa dove Carl ha sempre vissuto deve essere demolita per costruire moderni grattacieli e a lui dispiace molto. Un giorno Russell, un bambino che vuole fare l'esploratore, si offre di aiutarlo. Carl però lo manda via con una scusa. L'anziano signore vuole stare da solo, a sfogliare il suo album di ricordi, finché due infermieri bussano la sua porta. Vogliono portarlo in una casa di riposo. Ma Carl non ci sta. Così lega tanti palloncini al camino e vola via con tutta la casa, verso il Sud America. Presto Carl scopre che a bordo c'è anche Russell. Era nel portico, quando la casa aveva cominciato ad alzarsi in volo. Così, dopo un lungo e incredibile viaggio appese alla casa, i due atterrano vicino alle cascate Paradiso, proprio il posto che Carl desiderava visitare. Russell è un vero esploratore, scopre subito uno stranissimo uccello e lo chiama Kevin, ma le sorprese non sono finite. Carl e Russell incontrano il cane Doug, che vuole catturare proprio il grande uccello, eppure è un simpaticone. Dobbiamo proteggere Kevin, dice Russell preoccupato. «Non lo lasceremo solo, vero? Promesso?» E Carl promette. Ma una mattina l'uccello comincia a chiamare i suoi piccoli. Sì, Kevin è una femmina, e poco dopo si allontana per cercare il suo nido. Rimasti soli, Carl, Doug e Russell vorrebbero raggiungere le cascate. All'improvviso però alcuni cani feroci li costringono a seguirli. Sono gli aiutanti di Mance, un esploratore che vuole prendere Kevin. Crede che l'uccello sia magico. Per fortuna Kevin torna dai suoi amici e li aiuta a scappare, portando legata alla schiena la casa volante di Carl. Però la fuga dura poco. Mance li raggiunge con il suo veloce dirigibile e cattura l'uccello. Povero Kevin. Bisogna intervenire per liberarla. Anche Doug è venuto a dare una mano. Si era nascosto nel portico della casa per stare vicino a Carl. Salito sul dirigibile, Carl lancia una palla per distrarre i cani di Mance. Mentre loro la rincorrono, Carl libera Kevin. E Mance si lancia di nuovo all'inseguimento, ma resta impigliato nei palloncini di Carl e vola via lontano. Gli amici sono di nuovo insieme. Kevin è salva e può finalmente riabbracciare i suoi piccoli. Tanti simpatici e adorabili pulcini. Fine.